Urca vidurca a tutti e benvenuti in un nuovissimo video di Fortnite Ragazzuoli Fortnite giornaliero numero 11 Si troverà esattamente nella giungla ragazzuoli Esattamente qui dove sto andando io C'ho un attimo una foto qui di fianco perché altrimenti sarebbe impossibile trovarlo Raga un attimo fatemi vedere dove siamo Allora qui raga dovremmo essere più o meno qui a rifugio ritirato Dovremmo trovarlo praticamente qua raga in teoria Appena scendete ecco qua raga in teoria Dovreste scendere qua Scendete qui raga e dovreste trovarlo in teoria qui Vediamo un pochino Si raga dovreste trovarlo in teoria qua Vediamo un pochino se è la stessa Si raga si troverà esattamente qua al Fortnite numero 11 In teoria ragazzuoli qui In questi metri qua si troverà il Fortnite numero 11 raga Io non capisco perché adesso non lo trovi Probabilmente è un pochino più distante O probabilmente sono io che sto guardando Eccolo là eccolo là niente raga eccolo Eccolo là eccolo là eccolo là L'abbiamo visto l'abbiamo visto raga l'abbiamo visto L'abbiamo beccato da lontano Meno male che l'abbiamo visto da lontano E beh questo è difficile raga Questo Fortnite era abbastanza difficile Eccolo qui raga Fortnite numero 11 Sarà un po' duro trovarlo Sarà un po' duro trovarlo ma mi Eccolo qua Si trova sotto un pappagallo Nella giungla che vola in cerchio Quindi ragazzi lo raccoliamo Ed ecco fatto Vi mostro anche dove sono Precisamente ragazzuoli così Voi potete seguire il video tranquillamente A sinistra diciamo A est Si a est In teoria del Del fortbite ragazzuoli No a ovest A ovest scusate a ovest Del fortbite Qua si troverà ragazzuoli Qua 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 Esattamente qui Ecco qua Spero che sia stato comunque utile Noi ci possiamo salutare nel prossimo video Paralive Urca mila urca tutti boys Dai così Dai così